e questa sera do il benvenuto a dimmi quando a massimo bernardini ciao diego buonasera è conduttore di tv talk e anche del tempo e la storia un programma che di cui vado pazzo lo guardo vai in onda sia sul rai 3 e io lo guardo quando riesco a quell'ora lì 1 e 10 esatto e poi vai in onda su rai storia alle 20 50 prima le 14 20 20 50 addirittura anche alle 23 30 quindi un uomo di spettacolo un uomo di televisione a tutto tondo di spettacolo io sono giornalista giornalista però però adesso sono la testa da giornalista professionista questo ok quindi non ti fa un brutto effetto essere chiamato uomo di spettacolo mi chiamano per quello di storia un professore e gli dico non lo faccia perché mi offendo e uomo di spettacolo no c'è un spettacolo io lo associo alla parola artista siccome non sono un artista quindi va bene giornalista punto a proposito di spettacolo a tv talk che è un programma che che è nato veramente in una nicchia cult ma ormai ha dei grandi successi di numeri nicchia cult è interessante perché noi abbiamo cominciato alle 7 di mattina io me lo ricordo benissimo 7 di mattina è stata la prima messa del sabato il sabato addirittura si è veramente si è uno di ma chi te lo faceva fare è mi piaceva il programma alle 7 metti la sveglia anche se diciamo la verità io sono cioè la vera stare è silvia motta secondo me no ma è vero sono da crudissimo perché stavo di creare gelosia no no lavoriamo siamo da tanti anni mi è molto simpatica poi è bella tagliente si nasconde dietro alla questione dei numeri delle cifre per cui può permetterselo più facilmente e forse si comunque tornando quello che stavi dicendo allora se culto come lo chiami tu era all'inizio era interessante perché comunque prima le sette poi alle sette e mezza andati in onda poi alle nove quindi una crescita per noi come dire certo di status enorme ed era effettivamente un programma onestamente che non arrivava oltre le 500 mila persone di pubblico di nicchia molto preciso anche con un buon share perché erano arrivati fino al 9 il 10 però di un pubblico ristretto che appunto a quella della mattina del sabato come dire che si svegliava apposta come te a vederlo in realtà da un po di anni ci hanno messo al pomeriggio del sabato ed il programma è cambiato è diventato per forza di cose più pop cioè tu comunque il sabato pomeriggio hai un pubblico che ha un'offerta molto più larga cioè dalle amiche del sabato addirittura dei filippi verissimo segreto è vero cioè come dire quindi devi fare comunque un programma sempre di approfondimento ma un pochino più largo sì un po meno magari tecnico però è comunque un modo per come dire godersi la televisione che uno magari non si è visto per diversi motivi durante la settimana ma anche attraverso gli ospiti che ci sono e anche il cast fisso avere una proposta critica rispetto a quello che è stato messo in onda. questa critica è una bella definizione nel senso che effettivamente cerchiamo non ci riusciamo sempre però lo ammetto tranquillamente però cerchiamo di avere uno sguardo critico critico non vuol dire come dire vado a vedere le magagne che ci sono ma critico vuol dire che non te la bevi a criticamente appunto ma provi a ragionare su quello che vedi. La dimostrazione del vostro successo secondo me sta nel fatto che il pubblico è molto meno stupido di quello che a volte soprattutto alcuni dei lavori pensano sia e infatti il pubblico non è così a critico e si sente molto rappresentato ma visto che passano praticamente tutti i personaggi della televisione in questi anni ti sei fatto un'idea rapidamente su com'è la gente che va in onda che sta davanti di fronte alle telecamere secondo me si divide in due parti i professionisti come dire abbastanza distaccati e i narcisi assoluti quelli che come Molière vogliono morire morire sulle assi non del palcoscenico ma della televisione non ti dirò mai quali sono gli uni quali sono gli altri lascio al pubblico ma si vede la sua critica ma si vede proprio a occhio nudo una cosa come questa però insomma diciamoci la verità la televisione è una cosa che fa ammalare no io ormai ne faccio anch'io tanta perché alla fine sono in onda praticamente sei giorni alla settimana sei rincorsa con gli orari della D'Urso ecco sono quasi fortuna un po' meno come numero come monte ore diciamo però appunto ti fa ammalare la televisione nel senso che comunque poco alla volta il rischio è che credi di coincidere con l'immagine che il pubblico ha di te che la televisione rimanda ora tu rimani lo scemo di prima e per esempio chi vive con te lo sa che non è che siccome vai in televisione sei più intelligente più educato più simpatico meno sgradevole cioè i tuoi difetti restano quelli ecco la malattia arriva quando tu credi che improvvisamente i tuoi difetti non ci sono più ma coincidi con quel che il pubblico percepisce di te ecco lì ci sono dei casi da studiare secondo me anche nella televisione italiana nel mondo in generale ma sì dimenticandosi che è un'applicazione di un insieme di capacità che ti rendono piacevole quando sei in onda poi nella vita resti piacevole o spiacevole quanto per quello che sei. Come mai riuscite a parlare di argomenti televisivi che quando poi li guardi sono più noiosi del talk che fate voi? Beh innanzitutto è l'arte del montaggio perché se un programma dura 180 minuti tu ne fai vedere un minuto e mezzo diventa un capolavoro anche la cosa più brutta. Cioè tutto quello che è il difetto di un programma per esempio il ritmo troppo molle oppure l'insistenza su certe immagini su certi racconti tu l'hai ridotto a pochi secondi quando non ti piace a pochi secondi cioè in realtà quasi sempre i programmi brutti noi li facciamo sembrano quasi belli. Esatto a proposito di programmi brutti tu ne guardi in televisione abbastanza comunque ne guardavi per forza. Sono diciamo 15 anni che me ne bevo a tonnellate. Ma fuori dai denti a parte l'immagine giustamente di distaccato e poi di critico della televisione c'è qualche programma che ti ipnotizza al di là della qualità del programma per esempio ti dico una cosa non sono neanche negli oroscopi perché secondo me sono idolatria però quando c'è Fox da Magalli se capita io resto ipnotizzato per vedere chi c'è al terzo posto io non vi ho accartonato e vergine, ariete. Eh però io se ti dico qual è la mia predilezione come dire... Allora sai qual è il programma che davvero mi ipnotizza sul serio? In realtà non è italiano ma è un vecchio programma giornalistico che c'è da almeno credo dalla fine, insomma dai primi anni 60. Si chiama 60 Minutes della CBS ed è un programma giornalistico secondo me di un livello stratosferico. E' vecchia scuola giornalistica televisiva americana. Io vado pazzo per quel programma. E' noiosissimo? Eh un po' sì. Ecco io forse ho questo difetto. Ti piace la roba noiosa? Mi piace veramente è bella pesantona noiosa. Per esempio io mi innamoro a volte attraverso RaiStory, attraverso Scheggio, attraverso le teche di meravigliosi programmi. L'altro giorno ho visto per esempio un racconto della crisi del canale di Suez del 56, un filmato di Humber Bianchi del 67 in bianco e nero e me ne sono innamorato perdutamente. Sono malato, va bene. Questo è feticismo, rasenta la perversione ma ognuno ha il diritto alle sue in privato. Certo, capito. Voi siete cresciuti a Radio DJ, io sono cresciuto a Radio 3, capito? Certo. Ma la Radio 3 di 30 anni fa, di 40 anni fa, perché sono vecchio io. Quindi una Radio 3 che non ha idea di quanto fosse spessa, proprio densa, cioè una roba veramente heavy. Eh beh, heavy, heavy metal. Allora, a proposito di televisione noiosa, c'è un genere che ha stancato tutti tranne coloro che continuano a condurla, questo genere di televisivo, che è il talk show politico. È oggettivamente ormai noioso. Per me anche loro, anche quelli che lo convocano, sono noi. Eh, si sono un po' stancati. È un po' alla canna del gas, diciamo. Qualcuno dice di sì, qualcuno è fatto meglio, qualcuno peggio. Ci sarà un dopo? Cioè finirà? Io ti faccio, ti dico la mia teoria e te la sottopongo. Io penso che dopo tutto questo, superato il momento della necessità di tutti di esprimersi, ormai la libertà di espressione si sta autosoffocando. Beh, ma condivido questa osservazione. Si tornerà un po' a un'altra necessità, che questo programma nel suo piccolo cerca di fare, cioè tornare ai fondamentali, cioè alla conoscenza un po' più approfondita delle cose. Sei d'accordo? Sei bravo però, eh? Osservazioni acute. Sembro scemo. Sei un ottimo analista televisivo. Grazie, grazie, grazie. No, condivido questa analisi. Allora, innanzitutto c'è un dato da cui partire, come facciamo sempre noi, cioè il dato del pubblico. Sì. Primo dato per cui questa cosa sta diminuendo e diminuirà. Vedrai che l'anno prossimo non ci sarà lo stesso numero di talk show nella prossima stagione, eh? 19, ne hanno contati 19. Ci metto la firma perché di fatto tutti hanno all'incirca dimezzato il pubblico, questa è la verità. Sì. Poco alla volta lo stanno dimezzando. Pensiamo a Santoro. Santoro era il leader. Sì. Faceva fino al 25% su Rai due. Oggi Santoro è ridotto a un decimo di quello che era dal punto di vista del numero di test. Qualcuno dice, o potrebbe dire, che come lui ha inventato un modo di fare il talk show, l'hanno tutti copiato e il 25% che faceva lui si è suddiviso. Ma certo, questo è uno dei problemi, ma secondo me molti dicono, eh, il problema è che ormai c'è questa grande alleanza per cui in realtà non ci sono più i contrasti forti. Io a questa teoria credo al 30%. Il 70% secondo me è proprio che, come è già successo, pensa ai reality, è già successo che un grande genere alla fine tramonti. Cioè la nostra televisione, come tutta la nostra cultura, consuma, consuma i prodotti. Certo. Li moltiplica ed è un modo di consumarli. Il pubblico lo vede. Cioè siamo, lo sappiamo, il paese che vede in assoluto più televisione, per esempio. Sì. Però in questa bulimia, alla fine tu consumi i prodotti, consumi la tua attenzione, consumi quel tipo di televisione e alla fine per forza di cose bisogna cambiare. Oddio, io se penso alla quantità di gente che sarà disoccupata presto, perché sono tanti, se sono 19 talk, tutti i conduttori, tutti gli opinionisti fissi, nasceranno nuovi generi, invece di occuparti... Tutti i politici che di lavoro fanno quello, passano da un talk all'altro. Questo è un problema diverso. Questo è un problema diverso, perché i politici in realtà, come dire, in qualche modo sono stati fino adesso la benzina gratuita di tutto questo. Ora, faccio un esempio che è Vespa. Vespa è uno, come dire, Porta Porta è uno degli esempi, no, classici, uno dei padri, compie vent'anni quest'anno Porta Porta. Allora, Vespa sta dimezzando le sue scalette. I politici stanno diventando sempre più la seconda parte e vedrai, era, ricordiamoci, la terza Camera si diceva in Italia. Sì, certo. Dopo il Senato, dopo la Camera, arrivava Vespa con i suoi politici. Il fatto che si stia riducendo sempre più è il segnale più chiaro. Ma Vespa sparirà? Ma no, ci sarà più Albano e meno Alfano. È molto semplice. E questo non si sa se sarà meglio o peggio. Ah, vabbè, questo è tutto. Perché, certo. Perché nel sole l'abbiamo già sentita qualche volta. Sì, sì, è anche il pensiero, anche il pensiero del cantante, che saluto, ma che non condivido in niente. Ne approfitto per ricordarlo. In niente. Andiamo avanti. Ce l'hai con Albano, tu? Con quello che pensa e che dice molto. Ah, pensa. Sì, sì. Ma il suo vino è buono, però. Ho capito. Io però non posso, non sto, non siedo alla tavola di chi non mi gradisce. Ah, c'è qualcosa sotto? Sì, sì. C'è una velata omofobia del signore che mi sento oggettivamente di, come dire, a tenere lontana da me con grande gioia. Penso che non lo sapevo. Difida, difida, difida dagli Albano e del vino buono. A proposito di conoscenza, volevo citare appunto Il Tempo e la Storia, che è un programma delizioso. Grazie. Che sfrutta una delle, come dire, delle ricchezze non sfruttate di questo paese, che è la Teca Rai. Le Teca Rai. Certo. È un programma, per esempio, faccio un esempio da fan. Poi te ne faccio uno bellissimo. Io ho scoperto che sarebbe bellissimo farlo rivedere oggi, quell'episodio, quella puntata, in cui si parlava delle mondine. Vedere quella puntata con quelle immagini di quei contributi vecchissimi, insomma, di servizi giornalistici datati, oggi spiegherebbe moltissimo, insegnerebbe moltissimo a certi capi dei sindacati, come si fanno certe lotte, secondo me, e potrebbero ottenere forse più risultati. Se uno dalle idee forti comincio a capire. Un po'. Un pochino forti. No, senti, hai ragionissima. Ti faccio un esempio di quello che a me ha colpito molto. Beh, diciamoci una cosa sottovoce. Quelli che facevano che i programmi lì erano molto più bravi di noi. Ma assolutamente. Proprio perché allora c'era solo la Rai. La Rai aveva un'idea. Porto qui a far televisione i più bravi del paese. Quindi, almeno a me, sono certo che non mi avrebbero preso. Non mi avrebbero preso in quella televisione lì. Quindi lì c'erano i più bravi a scrivere, i più bravi a filmare. Insomma, lo guardavo l'altro giorno vedendo il rapporto fra testo recitato dal voice over e le immagini scelte. Oggi facciamo tutto alla rinfusa. Allora erano di una precisione calligrafica. Ma ti faccio un esempio che a me ha esaltato per capire cosa sono la forza delle teche. Allora, c'è una grandissima attrice della storia italiana di cui adesso non mi ricordo il nome. Aiutami, una grande attrice storica del Novecento. La Paola Borboni. No, no, no. Che non è andata mai in televisione. Dei primi del Novecento che ha avuto una grande storia d'amore con D'Annunzio. Eleonora Duse. Eleonora Duse. Bravo perché io sono anziano. Faccio l'autore. Lo prendo, lo prendo. Lo prendo, lo prendo. Allora, Eleonora Duse, raccontata in televisione, tu dice, beh, come si fa? Non ci sono filmati di Eleonora Duse. Grandi foto ma non c'è niente. Qualche registrazione ma non c'è niente. Da uno sceneggiato con Lilla Brignone, prima che comincia lo sceneggiato con la storia della Duse, c'è un colloquio con Visconti, con Lucchino Visconti. E Lucchino Visconti cosa racconta? Anche lui non... Ma lui, bambino, racconta di essere andato al Manzoni di Milano, portato da sua madre a vedere la Duse e racconta di sé che guarda la Duse con sua madre. E per far capire in una parola cos'era la Duse dice, dopo mezz'ora che eravamo a teatro, io comincio con mia madre e gli dico, scusa mamma, ma quando è che comincia a recitare? Cioè, in questo pezzetto di teca c'è tutto. Ti fa capire che lei... Cioè, la recitazione naturalistica, senza la retorica precedente, ottocentesca, tutte ste chiacchiere sono riassunte in una cosa del bambino Visconti. E poi lui con la Gay Antelitteram, prima che ci fossero con tutti i movimenti, le loro aduse... Abbiamo già finito. Uffa, ma come? Io l'aspettavo Massimo da tutta la stagione praticamente. Quando risenzia la gallina... Sì, sì. Vabbè, niente, allora, dobbiamo andare velocissimo. Quando arriva la gallina vuol dire che il tempo è poco, ma ho il tempo di regalarti un piccolo segno di gratitudine. Con questo programma abbiamo voluto dare segni di rottura come un certo tipo di tv sprecona e autoreferenziale. Abbiamo adottato una gallina che vive in maniera non intensiva. Quindi c'è un uovo. Felice. E la felicità della gallina ci arriva tutti i giorni attraverso... Un uovo. Sì. Bello. E quindi... Ma lo posso bere questo? Puoi fare quello che vuoi. Fresco, però. Sì, 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 è fresco. Quindi la gallina si chiama Chanel. Devo riuscire ad arrivare a casa senza rompere. Eh, questa è la scatolina. Adesso vedi un po' tu come fare. Intanto ti interrogo, ci sono le domande veloci di dimmi quando. Sei pronto? Ah, vediamo. Ecco, lì vado malissimo, lo so già. Vabbè. Vediamo. Proviamo. Dimmi quando hai cambiato canale. Ehm... Sempre. Eh. A certo punto. Quasi sempre. Dimmi quando ti sei lasciato andare. In televisione. In televisione? Quando... Quando... Neanche con Ferrara, dai. No, non Ferrara, un altro. Aspetta, uno di canale 5 è cominciato a... A credere di essere in un altro posto. Allora mi sono veramente incazzato. Non mi ricordo chi è. Sono veramente incazzato. Dimmi quando ti sei riguardato in tv. Ti riguardi? Mi riguardo perché... Perché... Sono un giornalista, non... Un narciso, da questo punto di vista. E voglio vedere... E sono anche un autore. E quindi voglio vedere... Ok. Come abbiamo realizzato quel che abbiamo progettato. Dimmi quando ti sei detto, vabbè, adesso mi tengo la barba. Mai. Questo non lo farò mai. Non sei proprio narciso. Ora, se volete... Vedete che non ci sono più i capelli? No, vabbè. Il mio parrucchiere dice, si deve mettere in testa il carbone. E invece no. E io gli dico, ma sei scemo? TV Verità. L'ultima cosa che faccio in questo programma è fare una cosa non televisiva. Cioè, ti faccio una domanda all'orecchio, che nessuno sentirà, ma di cui sei tenuto a rispondere. La risposta la devo dare, è obbligatoria. Ad alta voce, sì. Beh, sì. Madonna... Sinceramente. Ma devo dire il nome? No. Cioè, comunque... Ma a casa no. Stare a casa. Ecco. Stare a casa. Stare a casa. Massimo, grazie mille. Grazie a te, Diego. Ci vediamo in TV, sabato con TV Talk e tutti i giorni su Rai3. A luna è qualcosa. Il 10. Il 10. Oppure sulla storia. Il tipo la storia. Esatto. Grazie, buona serata a tutti. Ciao.